Da sempre la Virtus Social IV non è soltanto una squadra di calcio ma anche un'associazione che si occupa di sociale. Domani un triangolare speciale si inquadra proprio in quest'ottica. Sì, domani in occasione dei 100 passi di avvicinamento alla giornata del 21 marzo, la giornata della legalità, ai campi dello Sporting Club Boys IV ci sarà una partita della solidarietà e della legalità in memoria di Daniele Delcore, una vittima della Camurra. Si sfideranno la Virtus Social IV, una squadra del liceo Vittorio Veneto di Milano che sono in gita in questi giorni qui a Napoli e una squadra formata dagli studenti del Vilfredo Pareto guidati dal prof. Cagiazzo e alcuni responsabili di Libera Sport Campania. Soltanto uno degli appuntamenti che la Virtus Social IV condivide con Libera Campi Flegrei, il prossimo, il più importante, il 21 marzo. Sì, perché poi il 21 marzo è la giornata nazionale della memoria verso le vittime della mafia e dell'impegno e della speranza. Noi saremo presenti al corteo che verrà fatto a Napoli, a Piazza del Pebbicito, comunque per sostenere e per portare avanti l'impegno sociale e nella lotta comunque per l'affermazione dei valori importanti quali quelli della legalità e della solidarietà.